e benvenuti in questo nuovo video vi ringrazio tantissimo per i cento iscritti ora credo domani o oggi esce lo speciale cento iscritti già vi inizio a ringraziare da adesso, cento volte grazie un grazie ad ognuno di voi adesso si va alla storia non mi ricordo se è arrivata però facciamo che eravamo a casa la maison nei cattro nei cattro nei cattro le chat è rosso è rosso non è rosso è rosso ma c'è anche devo iniziare a dare i pugnoti ma chi è? no vero la nonna che era questo? ah nonne ah nonne come state? nonna sei una tu Ophelia stati zitta una volta ogni tanto fai silenzio si si Ophelia anzi Orphelia stati un po' in silenzio una volta ogni tanto tu stati zitta perchè ti sto sfraccellando nonna ma quando è stato il tuo compleanno? 37 giorni fa vabbè un mese e una settimana fa facciamola breve e un po' in silenzio